C'è grande attesa per la gara di domani sera al Palo del Mauro, match di andata della finale di FIBA Europe Cup. Il Palazzetto Irpino dovrebbe fare finalmente un bel colpo ad effetto in un giorno di festa che potrebbe essere trionfante, almeno in attesa di quello che poi sarà il ritorno che avverrà mercoledì prossimo. Venezia è diventata la Reggio Emilia di qualche anno fa, avversaria storica da dover finalmente battere. Le gare di Coppa sono diverse dal campionato e da una serie play-off. Avellino lo sa e questa esperienza in FIBA Europe Cup è servita a sacripanti e compagni per maturare. Già da ieri i biancoverdi si sono ritrovati al Palo del Mauro, solita seduta di faticante, mentre oggi si entra nel dettaglio con la solita seduta video e la conoscenza di un avversario già noto ai biancoverdi. La Reier è reduce dal successo in trasferta dei Sass e da un'intensa settimana trascorsa lontano da Venezia. Oggi i reierini arriveranno in Irpinia dove troveranno un clima incandescente, le partite dei play-off della passata stagione hanno lasciato il segno. Eppure Venezia è leggermente diversa da quella di 12 mesi fa e rispetto all'inizio di questa stagione i veneti sono stati di livello grazie agli innesti di nuovi elementi come dei e dalla crescita costante di De Nicolao e Tonut.